In linea con i risultati della ricerca del forum per la finanza sostenibile crediamo vi sia ancora spazio per avvicinare ulteriormente il segmento delle fondazioni bancarie all'investimento sostenibile. Vediamo un approccio differenziato che il segmento sta avendo partendo dalle semplici esclusioni volte a minimizzare il rischio reputazionale fino a approcci che sono più se vogliamo orientati alla sostenibilità e all'impact investing. A BlackRock ci impegniamo a accompagnare le fondazioni per avvicinarsi sempre più alla sostenibilità tramite la consulenza di portafoglio i dati e la tecnologia al fine di dare la chiarezza e la trasparenza di cui pensiamo molte fondazioni abbiano ancora bisogno.